Ora Allora 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 Ragazzi noi L'ultima scorsa live Ci siamo fermati Qui L'obiettivo era raccogliere tutte le ceste in giro Cosa che in realtà abbiamo fatto ma si è scaricato Il jetpack Ehm Oggi cosa faremo Boh Ma lo vediamo Come detto è un periodo dove non sono organizzato ragazzi Io ero al tempo uno dei più organizzati Ovunque su tutto e Niente Niente La roba di casa nuova mi ha Mi ha Mi ha distrutto Comunque Ho fatto la Ho fatto una provata Ho fatto una provata in questi giorni Praticamente dove volevo mettere Le citofono nuove Di casa Quello con la videocamera Visto che c'è anche la videocamerina Ok Giusto per capire Quando arriva qualcuno che rompe i coglioni E quindi manco gli rispondi Lo fa sentire proprio Stupido E quindi chiamo Chi di dovere per capire se è compatibile Perché naturalmente da come ho capito Non tutti possono Tutti i microfoni Cioè microfoni Citofoni possono essere compatibili Quindi cosa ho fatto Intanto mi sto cercando su Amazon Quello che mi piaceva E il prezzo è Dei 150-200 Quello con lo schermo Ok Chiamo Mi informo E mi fa Sì va Insomma Costa tot L'installazione Più il costo del citofono E lì per lì Mi è scattata proprio Avete presente la scintilla Proprio Pam Detto questo Mi super carica Il costo del citofono Per guadagnarci di più E lì Genio Detto Sì perché tanto già Io ho un paio di citofoni Perché Li ha completi il tempo mio padre Per altri due appartamenti Ma alla fine non sono stati più utilizzati E il tipo mi fa Ah Avete presente quel Ah di Cavolo Mi ha fregato E lui Risponde con Però bisogna vedere se sono compatibili Giusto Giusto Io non avevo completamente idea di niente Ok E io ho detto Guarda Dì a mio padre Non so So che forse è della marca Del citofono Perché dovrebbe essere la stessa marca E fa Eh sì ma dipende dal modello Ho detto Ok mi informo E ti faccio sapere Quindi avevo due possibilità Due possibilità Di beccarne Uno Compatibile Mi sono messo lì Un'ora a studiarmi Il citofono che c'era adesso Il citofono che c'era Praticamente lo posso installare Lo posso installare ormai da solo Trovo su Amazon Quello perfetto E gli mando Quello perfetto Perché è compatibile per forza 100% E poi Uno da decoy Uno Che Preso proprio a random Stessa marca Che può essere non compatibile O è anche compatibile La risposta È entrambi compatibili Quindi si paga solo l'installazione Business Mindset Eh Ragazzi Che dire Che dire È un Un ninja da tavola Ninja da tavola Ragazzi allora Io questa sera Vi spiego un pochettino Che adesso volevo andare a fare Trascendo di fatto Che sto facendo 4 fps Non capisco perché Allora Noi potremmo in realtà Iniziare A Pensare A farmare la roba Per La Stazione Ok Stazione che sta qui Stazione che Se permettete Non voglio spoilerarvi Un attimo Cioè va bene tutto Ma È Un pochettino di Eh Come si dice Di Di Ragazzi Si è frizzato tutto Ragazzi Sta andando tutto a fuoco Finita Cioè Vuoi dare un pochettino di Eh Cioè Se no Che andiamo a fare Faccio prima che la incolle E basta Cioè Non ha senso Dobbiamo creare Del Dell'intrattenimento Qui Comunque l'avete visto Lo shorts di oggi Non so chi di voi l'ha visto Se l'avete visto Eh Isciuto molto carino E su CS Quindi diciamo Aspettative molto basse Per La La community Che andiamo a vedere Lo shorts Però So contento Perché è uscito Veramente bene Un attimo ragazzi Che sto Cercando di capire Come 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 metterla La station One nation Allora Ok Così io mentre Faccio questa cosa Perché È bello Un problema Naturalmente Era difficile Perché era un punto Di riferimento Decente No raga Allora Considerrebbe Essere giusta Vai Dovrebbe Dovrebbe A posto Fatto Ma è tipo Era un troll Questo video Una certa partiva Un porno Mi è stato Abbastanza discutibile Come Come cosa Ok Datemi un attimo Olè Fatto Fatto Posso far vedere Lo schermo Sbagliato Eccoci qua Perfetto Si mi sono messo In creative Per volare Per metterla meglio Perché non ci riuscivo Per fare prima Se no ci perdevo 15 ore Quindi Cortesemente Non ho spammato In chat Che ho citato Non si sa mai Poi la Minecraft police Si arrabbia Capito Poi Il ragazzino Di 7 anni Dice Oh no Io sono Youtuber Falso Troppi colori Prima si stava Mei Ho preso Anche i diamanti Questi qua Visto Ok Ragazzi Allora Ecco tutto quello che serve Per la stazione Sono 27 Pudge Ma devo proprio farlo C'è Devo C'è Posso Tipo Non farla Guarda quanta roba c'è Ragazzi Ehi Grande Teo Allora Allora ragazzi Allora 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 Scegliete al volo Farming Per la stazione Oppure Andiamo A Sistemare le farm Sotto la calabria Scegliete Intanto teo Grazie mille Vi do Libera Farming Stazione Farming Farming Ok Farming Stazione Stazione Va benissimo Ragazzi Va bene Va bene Allora Tutti questi casing Decollano No perché Allora Se ci sono dei casing Dentro Però va attaccato Vai Strunk Allora Capiamo al volo Una cosa Quanta roba Ci serve Perché questo È il problema Ragazzi Il problema È proprio Questo Raga Leggi il quinto Che ha preso La sub Che due Coglioni Ragazzi Posso dire Niente male Posso dire Potevo andare Peggio Iniziamo L'avete scelto Voi Ora vi pigliate Le vostre azioni Ecco Vi pigliate I vostri Ecco Quello Si Oh comunque Oggi mi sono fatto Aiutare anche Da Sadditec Non so chi di voi Lo conosce Conosca Gioca a minecraft Ragazzi Non so l'italiano Per scegliere Un monitor Da Per Il pc Da gaming Perché devo fare Gaming Gaming E E quindi Mi sono fatto Un attimo Dare una mano Da lui E L'avrei trovato Pure scontato Eccetera Il problema È che Fino a poco fa Non mi pigliava Il pagamento Ma infatti Controllo Ragazzi Ho una mail Da parte Di uno di voi Ciao Em Sono un tuo grande fan Quindi Sapendo che ti servivano A far migliori Nella Createcraft L'ho creata E ho fatto la schematica Deve solo modificare La parte del nether E connetterla Ad una fonte Di lava infinita Spero ti piaccia E comunque Sempre E per sempre Gaming Ti giuro Vi giuro Raga Non sto scherzando C'è Farman Decythe Over Che sarebbe L'overworld E quello del nether Eh raga La si prova La si prova La si prova Cioè ora Andiamo a vedere Va bene Va bene Ora la facciamo vedere Il bro si chiama The Real Dome The Real Dome Non so se adesso In live Ci faresti Del game Iniziamo un attimo No non è il Non è quello Dell'Asus Alla fine Non è quello Dell'Asus Allora Ragazzi Acacia Acacia 31 di questo Si inizia 33 Poi si prendono Uno stacchino di questo Con questi ci facciamo anche delle scalette 8 scalette 1 2 3 Andesita 18 Ne prendiamo 32 Non si sa mai Andesita Clear Glass Casing Eccoci qua Intanto Iniziamo ragazzi A droppare la roba Qua dentro Ah il martellino Lo togliamo Ah Andesita Gravel Già che ci siamo Andesita Gravel Penso che Siano 1700 Qua Eh Sì Sono 1600 Eh 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 Ah vabbè Ma si fa con la Gravel Cazzo Me ne prego Sì 1767 Vetro Ok Servono casing E vetro Ok Eh doppione Piediamo della sabbia Sand E in realtà possiamo andare adesso E anche Al centro La testa grave si fa con la grave Sì sì esatto 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 Quindi non è un problema Vamos Andiamo nella fonderia Ok Ciao ste Eh Dopo voglio vedere poi la farmettina di gravel Del fan Oh S'è fatta carina La vediamo nel mondo Prima creativo E poi da caso me la buildiamo qui nella create Perfetto Ingento di vendar Aspettiamo ancora il vetro Eh il seed ragazzi Mi dispiace ma non lo do Il seed non lo do Sapete perché Per due motivi Uno No Due Questo seed ragazzi L'ho generato a caso È il primo seed che è uscito Questo vuol dire che Qualsiasi seed che generate Può diventare Un seed bellissimo Allora A chi dona 50 sub Io lo droppo in privato Brava Lella Si vede che tu Segui Le robe del mindset Di Dubai Bravissima Brava Lella Lella fa marketing Lella sa 100 secondi sa Ve lo metti pubblico No È un po' E qua tocca fare Una gittina alla volta Ragazzi perché Se no uno esce Scema una certa Ma Lella Segue tutta la serie Di business maker Di jumpy tech Mi pare Ok Mezzogiorno Andesite Wall Erano tipo 70 qualcosa Se non sbaglio Dentro Ok Allora Landisi The gravel Landisi The gravel Si fa Nel botanist Eccolo qui Il botanist Ne vuole 1700 Il bello che È una texture Che cambia Talmente poco Che non si capisce Comunque Strano il fatto Che vi piace Vedere Qualcuno Che farmi Cioè Sarò io Che forse Sono l'amante Dell'azione O di robe Più Intriganti Del farming O dei crafting Non lo so Ci ho messo Una cura La cassetta Gravel Beh si È rilassante È rilassante Ovvio E poi dopo ragazzi Fa un bel climax Su Su CS Invece Così Quando qualcuno Di voi Si addormenta Si risveglia Poi su Vertigo Dove io Bestemmio Per i tipi Che prendono Sempre A Con le flashbang E via 1.800 Fatto Il riso Aspetta A volte ce li ho Rice Io voglia I barrel 110 Ne vuole 149 Mi sa Non c'è una barriera Perché c'è una barriera Qua dentro Era una barriera Che forse è rimasta Da qualche meme Di qualcosa Non mi ricordo Ok Ragazzi Ma chi minchia Li fa Tutti sti Beehive No 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 Rega Ma non ce l'ho Tutta quella Io Io ragazzi Non Non penso proprio Ragazzi Che andrò a fare Comunque Birch Voi siete pazzi A pensare Chi mi metta a fare 107 Beehive Cioè Io non ho firmato Un contratto Con minecraft Per fare questa roba Non vabbè No Ho tolto un oggetto E' finita Non sapremo mai Quale sarà Non ho firmato Comunque Nessun contratto Con minecraft Serve la lana Due che indicano La morte Blackstone Scalette di Blackstone Fatte Vabbè Vabbè Raga Piano piano Già Cioè Già abbiamo fatto Due righe di roba Si è Vabbò Fatto Tutte le robe strane Ragazzi Le facciamo Poi dopo Alla fine Il farming Bene o male Avendo Farmato Già tante robe Perché comunque Vedete Quando io crafto qualcosa Ne crafto sempre di più Rispetto a quanto Me ne servono E poi le metto Da parte E questa roba qui Mi crea un buffer Di oggetti Che comunque Mi permette Di Di averne Veramente un casino Vedete tipo Qua i cabage Questi qua Vi ricordate che Per rifarli Ne ho fatti Due stack A random Ecco Sono tornati utili Tipo Le carote Ce le avrò pure Eccole Quindi il metodo Emerald Funziona No Mi serve un coso di Iron Vedi Pam Le catene Allora Chain che abbiamo Ne abbiamo 71 Ne craftiamo altre Hola Dobbiamo un attimo Aspettare Che entrano nel sistema Qualcuno potrà Appare il codice Per Leaf Ne command block Leaf Ma che vuoi fare Ragazzi Io non so Non so perché Sto vedendo che tipo Siamo in due Che è successo Il mio account Di spettatori Siamo morti tutti Siamo decollati Ora vedo che siamo saliti a 24 Io ho visto che eravamo 72 224 12 Ragazzi vedo 12 Ragazzi è stato un piacere Addio Addio ragazzi No ma non penso che Sia l'effetto Sanremo Ragazzi Non c'è Va bene tutto però C'è passare Uno Uno Ragazzi Uno Ho uno spettatore medio Uno Fermi tutti Voglio vedere La home page di Twitch Tutti con uno spettatore Sono morti tutti ragazzi Tutti Tutti Incredibile Vabbè ragazzi È stato bello Eh ragazzi È È perché Ha startato la Live vostra madre Non volevo dirlo Non volevo dirlo Chiedo scusa Non volevo dirlo No ragazzi No Non volevo dirlo Perché l'ho detto Dovevo stare zitto Perché quello che mi passa per adesso Lo sto dicendo ultimamente Non va bene Devastante Quindi se adesso vado tipo in Lista Delle persone Come Quante Vabbè No poi ragazzi Sti cozzi Dai Continuiamo Il nostro Abbiamo un sacco di cose da fare Quindi non perdiamo tempo Grande Uno spettatore Però Devastante Devastante C'è proprio Bellissimo Aspetto ragazzi Il Quello di turno Che arriva Entra in chat E dice Ma io ti ricordo Mi ricordavo di te Che facevi 5.000 spettatori Come adesso Soltanto uno No Devo fare Ancora Allora Questa è fatta Mamma mia Due Tre Quattro Fatto Rotelle Cockwheel Quattro precise Dentro Il concrete Oh Cavolo Va bene Vai Eh ragazzi Qua adesso Bucket Andiamo Vabbè Rega Ma sti cozzi Non Non L'importante è che a voi si vede la live Se si vede la live Tutto bene Poi Cazzo cena Come sono morto Ma come è successo Tutto ciò Ma cosa ho toccato Ma sono inciampato Nel secchiello Che ho droppato Che è successo Fritto misto Fritture di pesce Posso dire Unbelievable Posso dire Cos'è che tocca Non capisco Siamo a dove Allora Ma che cazzo c'è lì Ragazzi Ma che sta succedendo E' questo cavetto Io so Senza parole Quante ne vuole di concrete panel Spero pochi Ah non lo stone cutter Vai 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 Quanti ce ne dai Concrete panel Quattro Ok 540 Godo Fatti Fatti Connected 12 Dentro Fatto Cooking pot 1 E 1 2 E il secchio Dell'acqua Serve Vai Sono morto Due volte Ragazzi Come un pirla Ma che vi devo dire Io Sono stato toccato Ok Cut Cut Dripstone Brick Brick 18 Ah posso dire che stiamo andando molto spediti per la mole di oggetti che ci sono eh Cioè stanno un 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 Allora Cosa abbiamo qua Concrete Ce l'abbiamo Ho paura Ciao aspi Ciao aspi Comunque dettonato da un cavo eh No la crafting ragazzi ne avevo già una dentro Infatti sono Oh Non ho raccolto una crafting L'ho droppata qui allora Vabbè Non l'avevo raccolta quella sotto Questo Esci mille litre Non Non Mi spiace Non sono questo genere di persona Come cavolo ti permetti Ma non Perché non ciuccia Ma Ok Via E intanto ragazzi Allora io stasera volevo Mostrarvi Un pochettino di roba Per Il Il serverrino Dei sub Soprattutto che L'auto build Sono un pochettino indietro I ragazzotti E L'auto invece sviluppo Stasera Luke Ha finito Di portare una mod Che non è stata aggiornata Dal creatore L'ha rifatta Che è quella Dei Immersive post Quella che uso io Per fare tipo Queste robette qua Infatti poi Appena lui Farà tutte le mod Sfruttiamo la cosa Anche per Per Come si dice Per passare Alla 1 Ho capito Ma Ma non è il ciano No 15 di ciano ce l'ho Allora Devo cucinare le 5 Vai Poi questa è la Wool Questo si fa col ciano Ok Quindi Il ciano ce l'ho Questo si crafta Con Questo che si fa Con questo Ah ok Vuole le plate Di copper Smash Smash Io l'ho detto Io volevo fare Ragazzi La La fabbrica Di tutte queste robe Qui Ciao Lore Comunque stasera Mi sa che facciamo un po' Metà in metà Farmiamo un pochettino Ma poi Ci diamo anche ad altro Perché farmare tutta la serata Ragazzi Pesa Parecchio Soprattutto Ok La lana intanto La andiamo a prendere In Sardinia Let's go Hola Si ci sta Un pochettino Diversificare Dai Perché se no Fare tutta la seratina Farming Ragazzi Ci addormentiamo Ragazzi Può essere Non abbiamo lana Ciano Abbiamo veramente Pochissima lana Ciano Intanto Io farei Per forza Il colorante Andiamo Yo E quindi Mi stavo appunto Dicendo Che ora Io sto aspettando Cioè sto sperando Che non mi arrivi l'e-mail Da parte di Amazon Del monitor Che non sono uscito Ad effettuare L'acquisto Diciamo Che non so perché Mi ha dato sto problema Ma è successo Manco sapevo Che potesse accadere Una roba simile Che terribili proprio l'e-mail Dicendo Non te lo facciamo Mi ha Mi ha sunnato Un pochino come roba Allora Sedici Vuole questo Ma no Non da questo Fano dal lapis A voglia Non abbiamo cactus Eccoli Lì Sì Possiamo fare un sacco Di cosette Naturalmente Assolutamente Ma appunto Come detto Poi ragazzi Io appena Torno in piena Tranquillità Ora siamo un po' lenti Con i progetti Perché proprio Sto streamando poco Esoluto diverse cose Quindi non è che si va Tanto avanti Ma è proprio Per questo Ah però ce ne da quattro Almeno dai Poi appena Si torna Subito Belli carichi E' un attimo Insomma Streama più ore Via Anche il pomeriggio Ritorneranno anche le robe Il pomeriggio Niente di mail Ok Non è Non è amazon Perfetto Dove fare il ciano Ma Ma scusatemi To Ciano C'è il problema che E ma Come facciamo Abbiamo proprio Poca lana Lana di colore ciano Vabbè Intanto Spruce log E via Spruce log Bam Nel carpenter Allora Il carpenter Ce l'avevamo noi Qui No Ma questo è il mason Facciamo il carpenter Così ci teniamo sempre dietro Vuole una crafting Vuole l'accetta Ecco il carpenter E devo fare Praticamente Sono Ah è anche il primo Fatto Dentro Lana è bianca In Sardegna Può essere In realtà Sì una soluzione Sai Può essere Una soluzione Interessante Sì poi Come detto io Alcune cose Non le sto facendo Subito Era un discorso Questo qui Un pochettino vecchio Non le sto facendo Subito Proprio per avere Poi anche il pc Da gaming In modo che Almeno Non c'è rischio Di lag Di robe O altro Che il mondo Inizia a essere Veramente pesantuccio Quindi Anche per quello Un pochettino Ah ok Ah bianca Ne abbiamo Eh ma mi sa che Comunque Non basta Siamo a 148 Ne mancano ancora Un centinaio Prendo tutta questa Lana bianca Intanto Però Sapete cosa ci serve Le fiber amp Quelle là Che da lì Ci facciamo le stringhe E poi ci facciamo La lana Eccoci qua Esattamente Queste Che tu fai così Ti fai Un fracco Di stringhe E con queste String Bam Capito Ci fai tutta La lana Che vuoi Fai così Fai così Olè Praticamente Abbiamo trasformato 3000 Di quelle Fiber amp In 6 stack Circa di Di cose Di lana Che non è male Eh Allora Cyan Serve il cactus Vamos Eh la questione Chunk loader E' vero parox Devo farlo Dobbiamo mettere Dei chunk loader Pian piano in giro Per il mondo Io prima avevo la mod Che era troppo pesante Però E infatti ogni volta Per entrare dentro il mondo Ci metteva tanto tempo E iniziava ad appesantirsi Anche perché io adesso Pian piano Sto pensando Addirittura Di trasformare La createcraft Single player Dropparla poi In un server In modo che Tutta la parte Eh Di calcolo Ok La fa il server E E via Fare una roba simile Così anche Per il client Un pochino più leggero Poi Tutto il Magheggio Quindi Ora poi Con la 1.20 Vedrò un pochettino Quando la giornalose E fare una roba simile o meno Chi abbiamo qui Chi abbiamo Ciao Pino Pino Ciao capo Puoi dezomare Un po' la webcam M pelato Mi trattino Basso SG Così Cioè Così Così Dici Ok Abbiamo fatto pure Drop Vai Let's go Ok Va bene Perfetto Ci siamo 20 Dentro 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 Fatto Dark Hawk Fence Dark Hawk Fence Uno stack Dentro I cancelletti 12 Fatti Dentro Le scale Dark Hawk Park Bench Dark Park 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 Uno stack dentro Fatto I cartelli Eccoli Eccoli qua Dentro Brown sofa 19 Ne ho 10 Facciamo un pochino di lana E torniamo qua a fare tutto Ne ho 14 Ne ho 14 Ne ho 20 Olè I carpet Subito 31 Ne ho fatti 36 Ecco qua di nuovo Emerald L'abbondatore E le Dark Hawk Va bene Ne abbiamo un poco Dai Intanto queste Ce le ficchiamo Dentro E poi Le andremo a mettere Successivamente Le trapdoor Ne prendiamo lo stack E via Deep slit Tile Slip Deep slit Eccoci qua Signor Banana Grazie per i 35 Mesi Si chiamano Banana Mi raccomando Domani Ok Signor Banana Allora Sono arrivati tutti I giocattoli Di Gaia Così poi domani In una botta Li portiamo anche A casa nuova Deep slit Tile Slab 800 Ragazzi Mi dite 800 Quanti stack sono Sicuramente Più di 2 Eh ma infatti Sì No ma allora Secondo me C'è qualcosa Alla tua sub Che non Non quadra Su twitch Ultimamente L'ho L'ho notato Anch'io C'è qualcosa Di Abbastanza Storto 242 No no Mi serve ancora di più Ti prego Che palle Vai facciamo così Così Mamma mia ragazzi Le mie palli L'unidì mattina Ok Questo Questo Come cazzo Si fanno Oh Ma l'ho fatte Prima Ma come Deep slit tiles Ne ho trostando 37 No raga Io Ma quante ne vuole No ragazzi Non so quante Quante siano Quante ne vuole Aspetta Devo un attimo Consultare Qua Qua No Amico mio Quando mi porto Tiff Simulator Abbiamo soltanto Una missione Da fare Tiff Simulator Solo una 2000 Io Non ci sto Sono un po' tanti Oh no Un'email di Ma non Mi va a buon fine Il pagamento Di nuovo Ma perché Mi credo di un'email Che il pagamento Non è andato A A buon fine Del monitor Datemi un secondo Ok Vieni un attimo No 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 Ma che cazzo Hai questa No Ho aperto una roba E non dovevo aprire Mi sono perso Le live di Tutte Te le sei perse Vabbè Ma su Webinar Del live Ce le hai tutte Non lo so Signor Banana Non lo so Neanche le ho detto Che monitor Che monitor Devo prendere Quindi Mi puzza un poco Di scam Capito Cioè Non perché Non mi fido Di lei Però Allora Ma dove stanno Le impostazioni Tutto ciò Allora Sicurezza No Porca Troia Eeeh Lori Ma hai messo Uno zero in più Sono tornato Signori E anche oggi Si mangia Il mio L'ho fatto La live Finisce Qui Scherzo Lori Ma sicuro Noi che ho messo Uno zero per sbaglio Potete sbagliare Con due In tal caso Serebbe stato un errore Molto più grave Più gradito Però Grazie mille Ma così Ragazzi E si ripaga Il monitor Non è vero Costa tipo 800 euro Ragazzi Non ce la faccio Più Il mio Conto in banca Praticamente È diventato Tipo un roller coaster Che va Soltanto Verso Il basso Non So perché Non Ma dove cazzo Sono i Non vorrei che Ho bloccato Per sbaglio La carta In qualche modo No No La carta È sbloccata Limiti di pagamento Giornaliero 5.000 euro Ma chi cazzo Li ha spesi Non li ho spesi E infatti Potrei fare Qualsiasi Spesa Voglio rendermi partecipi Come diventerai zio Devastante Devastante A me Ragazzi È nato L'altro giorno Con un cuginetto Ho un nuovo Cuginetto Appena sfornato Nuovo Nuovo Una nipotina I Ah che bello Lori So contento Per te Dai E so cose Belle E so cose Veramente Molto Molto Belle Eh io Prima che diventerò Zio Raga Ne passerà Di tempo Minimo Passeranno Altri 15 Anni Quattro Ma quanti sono Aspetto 6.000 Mamma mia Cinque Sì Mi distrugge Il pot Uno Eccolo I pipe Ce li abbiamo I tank Pura Comunque Grazie mille Lori C'è proprio Super Inaspettato Grazie 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 Sono smutato Su DS Porca Troia La Buttana Grazie Mille Prof Hai appena Salvato Forse Una Streaming Oddio Un frigo Allora Ragazzi Non voglio Rimettervi Di sottofondo Subway Surf Dove un attimo Capire se riesco A fare il pagamento Per il monitor Perché sennò Mi arriva A novembre Datemi un secondo Forse perché lo sto prendendo Amazon Francia Norma di francesi Sempre colpa l'oro Allora Ma non so perché non 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 va Poi è tutto in francese Ragazzi Qualcuno di voi Ha studiato francese È richiesta la verifica del pagamento Quando te lo devo verificare Ma che vuoi In litro di sangue Ora compro quella carta di credito Di mio padre Due parole Sì Allora Entra Ci riprovo Sì Mi mandi il codice Mamma mia Ragazzi E non mi mandi il codice Incredibile Non so cosa sia Ma un clic No 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 Su Amazon Amazon Infatti non capisco perché non va Allora Importante Codice di verifica Da non comunicare a nessuno Codice di verifica Da non comunicare a nessuno Digita 4 3 1 0 6 Diciamo che lo 0 era giusto Oh Regà Pai mente Autori sé Ok Ci siamo Ragazzi Parebbe adesso Autori sé Ok No se cagano ancora il cazzo Sti francesi Però eh Eccomi qua ragazzi Scusatemi Cioè Un po' Un po' sembra una lottura Allora Torniamo A noi Da Dried kelp 6 Ok Help Yes Ok Glowstone Oddio facciamo un nuovo tavolo Non ho glowstone Ragazzi Dobbiamo fare Il philosopher workbench Che figata Guarda come non c'è un mezzo Di quegli oggi No ragazzi La crafting ce l'abbiamo Ma mi sembra eccessivo però Fare pure Un enchanting table No ragazzi Ma non c'è lì I diamanti Non ce li ho Eh Pensavi Per fortuna che mi ricitto prima ogni live Visto Ogni volta mi citto i diamanti Vabbè Caso peggiore ragazzi Si Abbatteva la casa Fatta totalmente in diamante Il carruccio Finzi Glowstone Hunter 22 Penso sennò 22 Non fate 23 Mannaggia Ciao Ok Framed Straptor 4 Ok Per chi do un po' di attenzione Comunque fare Questi crafting Due frigo Gearbox Le brotters Cioè Deve fare comunque attenzione A non sbagliare A capire che cacchio Devi craftare Ogni volta Tipo io adesso Dove cacchio Tiro fuori tutta questa glowstone Non ce l'ho Ma si può farmare la glowstone? Sabbia Ah no Ce l'abbiamo Mi sa la glowstone Dentro il kerberos Forse ce l'abbiamo Allora raga Tutto bene Tutto bene Pai mente Autorizè Io mi immagino Il corriere di Amazon Francese Che mi consegna Il pacco sotto l'ascello Eccoci Questo è fatto Ok Buju 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 Allora Granito 10 Allora Un attimo Cercherei di togliere Queste robette qua Ok Ok Allora Nel naso che mi sta dando un fastidio ragazzi Oh È un bug Che è successo Ho realmente citato Per la prima volta Come ho fatto Eeeh Mo' si bruciano non lo so Non lo so Cioè non volevo Assolutamente Non so cosa ho cliccato in realtà Stavo craftando queste Ma perché me ne fa fare una alla volta Polizia di Minecraft Giuro sono innocente Ma cosa zitta e piglia No raga non mi citto niente io Non mi citto assolutamente nulla Ma sono già disponate Sono già disponate Ah forse è veramente un bug Mamma mia che prurito il naso Boh No c'è qualcosa ragazzi al naso che mi sta dando fastidio Mi fa male Mi prude Buon voyage Andiamo No non penso sia un insetto ragazzi No ragazzi mi è appena venuta voglia di fare Bad Wars No no Oh no mi è appena venuta voglia di fare Bad Wars ragazzi Che sta succedendo No che è appena passato a posto Ok Passato tutto tranquilli Tutto sei fora T'ha posto t'ha posto È stato un momento di debolezza Ok Ah no no Siamo a tre Siamo a tre E tre E tre Però guarda che i cavetti non si friggono più Visto Incredibile Io però posso craftare però dove voglio Grass Dentro Dobbiamo fare i deep slate Allora i beehive Ma forse No ma non ce la posso fare mai Sono morte le mie Api Io avevo le api una volta Sono tipo decedute Sono morte Perché secondo me Andavano forse sul campfire Pichiamano fuoco Togliamo il beehive per ora Deep slate tiles E per farle Serve alla fine la La cobblite La cobblite Ce l'abbiamo Qua so I è buio No 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 Grazie mammina Grazie che mi dai ogni giorno Il lattuccio Con i cereali Grazie veramente Io sì che sono un uometto coraggioso Ecco qua Ma io adesso prendo Scusate Ma Pulizia chest Potentissimo Potente degustazione Di bubble tea al cocco Quanto è stato bello come si è sciucciato tutti gli oggetti precisi Ma pulito 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 È proprio bello molto bello Molto bello Ok Vediamo un pochettino Comunque non so se c'è ancora Abri in chat Perché per se stasera facevano CS o meno Comunque sapete che il costo delle casse Non si è abbassato E TikTok oggi l'ho fatto proprio anche apposta Perché Continua Domani Ne esce uno nuovo Di Tricktrock Di Reel e di Shorts Quindi Fate un'escrivativo Instagram E seguitemi su Instagram Giuro sono innocente Chi ha Chi ha E metti risveglio un ricordo Dica Ragazzi Signor Banana Capo di una multinazionale europea Che fattura milioni giornalieri Ok 50 anni d'esperienza alle spalle E mi manda il Fra fra Cuore di San Gennaro Su Whatsapp Che gli diciamo Che gli devo dire ragazzi Cioè io Sono alibito comunque Posso dire la parola alibito? Ecco Perché lo sono Cioè poi lo fa con 50 bit E manco con 500 Incredibile Allora Allora Ci ho messo Ci ho messo un botto A craftarle quelle robe Aspettate Vedete me le farò ancora C'è un fottio Mi serve veramente un cacchio Ma quante cacchio sono? No Potete essere lo stone cutter Potete essere lo stone cutter No Si Ma puttana Ragazzi Ditevano dopo Ditevano dopo Ditevano per la prossima build Grazie Cioè io faccio Blender di Minecraft Io non so niente di Minecraft Ma cosa vuole Ma cosa vuole l'esistenza Di questo blocco Assurdo 1700 Oh dovrebbero bastare Allora praticamente ragazzi La stazione È un misto Delle strutture Che ci stanno qua In zona Ma è anche un pochettino Come la farm In Calabria Riprende Un pochettino Il ponte Naturalmente È carina 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 Certo Non ci arriviamo stasera Non ci arriviamo È stato abbastanza Difficult È stato molto difficile Ah però Aspetta Abbiamo battuto la roba 1v1 con Gaia Incredibile Ragazzi Quando Donna tornerà Facciamo l'1v1 Allora Così fa No Non penso Di fare dopo Tekken Signor banana Non penso Non penso Perché ieri Tra l'ora di controller Mi ha Distrutto questo dito E quindi Se prendo un controller In mano Mi fa malissimo A furia di premere Tasti Mi sono proprio Distrutto Ieri Però Tanto Lo riporto Per forza Per allenarmi Eccetera Per Per il torneo Perché il 18 C'è il torneo Io Tanto Tanto vero Turbo Distrutto Raga Quindi Non è che c'è Molto da dire Da fare Vero Turbo Detonato C'è il torneo Di Tekken 8 Di Seidonia Io sono Nel girone Di domenica 18 Già mi sono fatto Spiegare pure Come funziona Praticamente Io dovrei Aia Io dovrei essere Contro Kenren E Lapo E Se Uno Stallo Alla messicana Praticamente Con dei punti Eccetera E da lì Chi ha più punti Poi va in quello Successivo Ok Hai già perso Perché ci Sicuramente Karen Lapo è forte Eccoci qua Subito Sottovalutato Lapo Sei finito Di fotuto E vabbè Raga Ma dici K di granito E mettiamo un po' Tino nel system Nel system 32 Eh raga Tosta 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 Ma allora I picchiaduro Comunque Non sono tanto Provi miei giochi Io sono fatto Per gli FPS Perfetto Chissà ragazzi Forse La fortuna Del principiant Chi lo sa Forse Vi stupirò Chi lo sa Mai sottovalutarmi Ma fidi il legno? Ma ce l'ho Gli stick Certo che è storto Sto coso 35 27 30 33 Godo Fatto Oh mio dio Ragazzi Siamo metallista Raga Siamo A Metallista Ma anche Ho fatto Le FPS No Se non ricordo male Rank viola Eh Ragazzi 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 Sti cazzi Ragazzi Mi dispiace Mamma Non è un problema Non è un problema Vi stupirò No La prossima live Di Tekken Voglio proprio Farla Tipo Tutto Multiplayer Eccetera Sempre contro Un nemico E così via Allora Ci abbiamo messo Un'oretta A fare Metallista All'incirca Gli altri oggetti Che sto vedendo Comunque Non sono tanto Difficili Eh Di più E di nuovo La lana Da fare Ma Questa si può fare Il colorante Basta fare Questo Eh A posto Guarda Vabbè L'abbiamo già fatta Tac 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 Fatta Ne abbiamo 120 20 Qua E 30 sedie Ok Ok Ma che cazzo Ho cliccato sul carpet Ho detto Ma che Ma che mingga Di crafting È questo Allora Le palle Di mio nonno E il cast Iron No ragazzi Ma che Ce l'abbiamo Le glow berries Nella Nella serra Dobbiamo fare Un sistema Per la serra Comunque Che porta Tutta la sua roba Nel magazzino Per forza Sì sì Ce l'abbiamo Per forza No ma Allora Se voi vedete Un'altra leve di tecna Ve la riporto Comunque non è un problema Io sicuramente Mi alleno Per Il torneo Quello Assolutamente Ti ho girato Il mio modesto pad Guarda Whatsapp Ti ho girato Il mio modesto pad Ok Siamo il banana Perché mi ha mandato Un pisello Come ci gioca Ma che è sta roba Ma che è sto schifo Eh il problema mio Quello comunque ragazzi È appunto il Il controller Da come si è visto ieri Eh è un casino Ho il controller Che mi sporca Tutti i tasti Eh Là non so come fare Cioè non so come Ma non l'ho fatta Poi la lanterna Ma Eh quello lì infatti Mi urta parecchio Dopo che ho scoperto Quella roba Veramente Fastidio Infatti Devo capire adesso Poi come Come posso risolvere 650 people Signor banana Lei che spende 650 people Per una tasterina Sotto al controller Veramente Deve farsi rivedere 650 people Ti è costato di più Il controller Che Cioè Il controller Che è la console Ma che cazzo bro L'avete sentito anche voi? O l'ho sentito soltanto io? Ha preso la corrente Iron HV Transfo Iiii Schippo Iiii Schippo Eh Schippo Bug out Da togliere Da turbo rimuovere No ragazzi È appena morto pure il coso Ma c'è morto pure il lama È incredibile Comunque Però vedete Non si friggono più i cavetti Quindi il sistema funziona Heavy Buono 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 Olè Vediamo un paio di glowstone E facciamo Queste lanterne No Zero flux va bene Perché vuol dire che sta consumando Oddio Diamo un'occhiata Ma Non vorrei che si sia Fritto un cavo Di Di mandata Ma non penso No Non si è fritto niente Ragazzi Funziona tutto perfettamente Greggiamente Guarda Questo manda 5000 Ma li Prende da qui Per ora sta facendo 8000 Soltanto la La calabria Mi stanno andando a prendere Raga Mi hanno preso Quindi va bene Allora Basteranno? No Non bastano Proprio per niente Ne ho 48 Serve il vetro che ho messo a cucinare Ok Vediamo come si comporta Mentre la calabria Vediamo un pochettino Però posso dire che prima l'ora I minchia Ha appoggiato la minchia Tutti in testa Giusto Mi ha preso un infarto Ma è giusto perché questo è Quasi pieno Oh Questo perché non scende? Ma Perché questo non va? Perché non funziona? Cosa che non va? Ma non funziona la belt Sono confuso Non penso sia contro La soluzione Cosa cacchio È successo? Perché non li prende più? Questo va C'è sta belt che si è rotta Ma che cazzo? Ma? Eccoci qui Non va Mattio ragazzi Arrivo subito Dimmi un secondo Arrivo 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 Eccoci qua Eccoci qua Ci sono Ci sono Allora Allora Se non è basta fare così Guarda Fatto Inizi C'è sto Incredibile come roba C'è proprio senza senso Tipo questo mi sono arrivato qua dentro Non dovrebbero arrivarci Guarda che qua è tutto pieno Guarda Mi hanno formato un botto 15% Era il 12% Hai il filtro messo in una posizione Sbagliateme Oh Dove? Quale filtro? No no Prende tutto Ah No invece c'è ragione tu bro Vero perché non prende tutto questo Grazie Grazie mille Esatto Esatto Giusto Questo dovrebbe prendere solo sotto Perfetto No invece c'è ragione tu Perché non Allora, sapete perché non va? Perché secondo me sta macinando Qui Eh no Ma perché non va ora? Perché è andata oltre Ma non c'ha senso No No Ma raga, strano Macinarle serve per fare lo zucchero Vedi? Fa lo zucchero E lo zucchero ci serve poi per Fare appunto tutto quanto Il biotanolo eccetera Perfetto Allora c'è la lava al 4% Che inizia ad essere un problemino perché senza la lava Noi inizieremo a perdere La Questa qui La farm di 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 netherrack Ha 20 bucket Ancora Che comunque non è malissimo Cioè non è per niente male Vabbè questa è Morta la mia batteria Vedete questo qui ragazzi Cioè Manda che in piacere La lava la prendiamo sempre dal nether Esatto Soltanto che Senza la stazione Ormai il treno non può più andare Appunto nel nether Per cui dobbiamo fare la stazione Sennò poi quella si ferma Si ferma tutto E È un casino C'è un tank C'è un tank pieno Lì E non mi sembra che era pieno O sì Forse perché l'avevamo fatto di scorta uno È vero che c'è un tank qua Ma è pieno pieno? Ah vabbè ragazzi Ragazzi pulito Questo qui è pulitissimo Cioè non ci mettiamo proprio nulla Facciamo un attimo Questo La pompa che si mette in mezzo E via Normalmente potrei fare il trenino Che scarica di qua E carica però vabbè Devo fargli la via Che può tornare di qua Aspetta che Mentre sto Facendo infatti tutte queste robe qua Che Ecco qua Allora il fatto è che qui servirebbe un motore Però ci sia Cioè dovrei fare tutto quel sistema Per il treno che gira Per cosa Faccio immediatamente Ad attaccare questo qua Lo attacco qui Temporaneamente Eccoci Perfetto No Però questa è una valvola I brass pipe Non li posso usare Aspetta Abbiamo dei pipe qua Ok Facciamo così Rotellina qui Messa di lato Prendiamo un motorino Temporaneo Lo mettiamo Bello Bello Ok Prendiamo subito Un connettorino Vedo che funziona benissimo Aspettate Facciamo un attimo Questo Ora dobbiamo andare Ecco qua Vai Ecco qui La lava che sta risalendo Perfetto Qualcuno ti durò più di un mese Quel tank Quindi a posto Vediamo la lava che risale Eccola lì Pulito Perfetto Problema risolto Ragazzi Problema Quale problema Non ci sono problemi Sì Tocca portare la lava Ma dobbiamo fare la stazione Prima Per tornare nel nether Per quello stiamo farmando Allora Torniamo un attimo a noi Cos'è un problema Io non ne so nulla Aspetta Ma perché tu rompi Ma Tu sei graziato allora Ah Eh no Hai visto La trapdoor No Buttanazza L'ho trollata No Perché non va Bro Ma Bro Bro Ma non si è bruciato nulla Ma Manda pure 9000 Di più No E che cos'è che si è bruciato Scusatemi Chiediamo la porta Che se no Ecco Pulito Questo funziona Quindi se è bruciato Un cavetto qua dentro Ha fatto corto qualcosa Ma non mi può sempre esplodere La roba qui Ecco No Questo qui ha Ha detto Nope Fatto Eccolo qui Allora Dobbiamo fare Questo Facciamo altri pannelli E si continua Penso che possono bastare No Altro pochettino Ora possono bastare Tutto questo Lo mettiamo Nel sistema Questo via Le leve 16 leve Le facciamo E tutti gli oggetti A sinistra Intendi Si Sono proprio quelli Sono quelli che Stiamo facendo Eeeh Già Abbiamo i Chorus fruit Vero Sì Lime Sono 179 Di lime Nei momenti 24 Di lime Abbiamo anche la terracotta Ma le serve Un po' Di più Corrente Lime Diciamo che Un pochettino Sono stanco Di craftare La roba Regà E' tutto per la stazione Si Ragazzi la lista A inizio live Era il doppio Era il doppio Ma io infatti Ora faccio la roba Live Vi dico Facciamo altro Per ora Prossima live Continuiamo il farming E facciamo altro E poi buildiamo Tutta la stazione Oppure prossima live Farmiamo e buildiamo La stazione Così finalmente Iniziamo a ricollegare Tutto il mondo Dopo andiamo su cs Potenzialmente Allora io ho chiesto a Tano E mi ha detto che Mi faceva sapere Allora Fammi sapere Sì 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 Poi guardiamo prima Anche la La farm Chiamandoli il sabone Assolutamente Lime Ok Sì 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 La build La guardiamo La guardiamo Poi dopo Anzi Vi dico Facciamo Sì Facciamo le robe di lime E guardiamo E guardiamo poi La build Del ragazzotto E vediamo anche Casuale se buildarlo O meno Perché non so come La build Può essere che È fatta con una struttura Non lo so Oppure è fatta Tanto la farm Non lo so neanche Che video Quindi Vediamo un attimo E poi si fa tutto Eccoci qua di nuovo Allora Ah ce l'abbiamo No è lime Ok La terracotta Ce l'abbiamo Qui però Aspetta Possiamo Mettere a cucinare Non è Mi serve Colorante bianco A posto Qualcosa mi dice Che mi tocca Fare altre robe Di metallo Noi le facciamo Cioè Di copper Siamo a no Ah 96 Invece no Ok 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 La glazed Questa qui Green No adesso Era la lime Ah no Ci ho messo io La green Non la lime So stupido Tocca fare ragazzi Altra lana Con la lana Siamo messi Cento Eh Troppo Ma Perché mi Prude tantissimo In naso Mi sta dando Fastidio Mi sa adesso Un attimo Tra un secondo Vi riabbandono Trenta secondi Che Vado a sciacquarmelo Non lo so Fastidio Fastidio Incredibile Ok Ragazzi Arrivo subito Un attimo Mi sta dando Troppo fastidio Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Ok Ci sono ragazzi Vediamo Non so C'è proprio qualcosa nel naso Che mi dà fastidio Non so che cavolo sia Oh Fino un po' di Boh Mi schifo dentro Che cazzo Non ne so Oppure mi sto iniziando a raffreddare Ma non Non credo Eeeh Vabbò Ma tu stai pazziando No ragazzi No ragazzi Craft incorrotto No raga E adesso Cos'è questo Eeeh Ma Ci stanno i legni Bucati Cavi elettrici Dentro i legni Dentro il legno Bro Ma la cosa è bellissima Ma aspetta Risolverebbe tutto sto problema Di questo accrocchio Madonna Madonna qui C'è letteralmente Bu Quello non ha preso ancora fuoco lì E ragazzi Questi come li craftiamo? Perché adesso è un problema Vabbè Vabbè Sapevo se vi dico E' un problema Dell'emerald Del futuro Andiamo un attimo Nel mondo In super piatto E vediamo Il La roba del ragazzotto Mi ha mandato Perché mi ha mandato De due Una è l'overworld E l'altra invece Del nether Eccoci qua Allora Schematic Tunk Apriamo la cartellina Le ho già scaricate Una E due Vediamo il grande dome Cosa mi ha inviato Ok Allora Si chiama Eccola qui Allora Faccio un attimo Piccola pulizia Schematic Una e una Due Una E due Questa ci mette un po' di più Vediamo un pochettino Sono curioso Vediamo che si è Che ha pensato il bro Questa è Overworld La madonna E caruccia Ha fatto tutto il sistema Con la stanzetta Oh Oh Ma questo Vabbè è buggato Questo qui Ok Ok Oh 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 E qui c'è Come entra dentro Il nether Aspetta cosa Allora Guarda 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 Ho fatto Ma guarda Ho fatto pure L'esterno Totale E Andesite Per ora Tu Tu puoi mettere Questa cosa Puoi mettere Puoi vedere Quanti oggetti Passano No Dembro Entro Entro Ah vabbè Perché prendi La lava Ok E la roba Dove prende Lui la lava Quindi in realtà La possiamo mettere Anche Fuori C'è Qua Basta Che si attacca Qui Guardate È giusto Sì No Uno più in qua Forse Se faccio così Può essere No Vediamo Aspetta Si è rotto qualcosa Guarda Che Ci ha messo I copycat Ci ha messo I copycat Il bro pure Hai capito Ok E come funziona Ah ma c'è proprio La farm Di Di Cobble A parte Proprio Dalla Cobble Bro Ah gli manca L'acqua Ok E Devo desistere Questa sede È un botto Tanto Molto Interessante E Fanno le sedici All'oltre Che diventa Gravel Che la Split In due Con un Giusto Contatore In modo Che finisce Qua dentro Qui però Vuole La La lava Oh Guarda che c'è Qua sotto Eh Bella Bella Articolata Devi Devi collegare La pompa Ad una fonte Infinita Di lava Ah Ho capito Cosa fa Questo Sui secchielli Se tu ci metti Il bucket Guardate Rega Vedi Lo svuota Lì Vedete Ci svuota Poi il bucket Sopra E da lì Lui prende Praticamente La La lava Ok Da qui Praticamente Esatto Da qui Ecco qua Però ancora qui Non sta uscendo Roba Andiamo Un attimo Ok Eh Qua si sta Fullando Però Mi è d'accordo Che poi La crushing Gravel Poi ho fatto Che La live La grave Per la flint Oh Aspetta Eccola Ah Perché lui Sta creando La flint Ma Certo Ecco Qui Guarda Ti dice Quante 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 Le fai Allora A questa Velocità Ti dice 2117 Carinissima Molto Molto carina Molto carina Molto carina Guarda Adesso Vedete come Come va 2000 Eccetera Si è lento perché Appunto è il generatore che è lento questo qua Non si rompe nulla vero qui Ecco qua Oh sono qui adesso di vedere Alla massima velocità suprema È aumentata adesso No 2.117 sempre Cos'è da per fare la flint e sminuzza la gravel Malalmente sminuzza la gravel Fun fact Noi tutta questa parte Ragazzi la possiamo Schippare Perché noi la flint la produciamo Nel Kerberos Perché con i shifter abbiamo la flint Abbiamo già la farm di gravel Quindi tutta questa parte Naturalmente Salta via Andiamo direttamente in questo Mi piace il fatto che ha messo Questa roba qua proprio È limitato proprio da questo Esatto È limitato da questo È dalla lava che non Non sembra arrivare Ah perché c'è uno di troppo Ecco Guarda guarda Settimila Però perché dice 21 Questo totale Dov'è che lo prende Da qui Totale Ah sapete perché Perché si svuota qua Lui ha messo che tipo Lui ha messo Nel V1 Ce l'hai Nel V32 Ce ne è 32 Nel V64 Nel V64 Capito Comunque sì È la flint che lo Lo limita Perché se tu gli droppi Un stack di flint Guarda Guarda quanto sale Settimila Vedi Bellissimo La farm del fan Abbiamo anche Il titolo Del voto Di Emerald Live Che se ti avete Fino a questo punto Iscrivetevi ad Emerald Live Che siamo in stallo Sui 31.000 iscritti Carina Non è difficile da capire Banalmente lui Cosa che fa Generatore di Cobblestone Alla Cobblestone La fa diventare Gravel Prende questa Gravel Che ha Ottenuto La Divide in due Una Parte Finisce la Gravel Dentro di Calderone Con la Lava L'altra Gravel Viene di nuovo Triturata Per avere la flinte Che finisce Dentro il Calderone Che poi Mixati insieme E pressata Con la pressa Fai L'Andesita Fina Semplicissimo Questo è un sistema Banale E' abbastanza inutile Questo qua Tu fai il trenino Per col tank Nel nostro caso Il trenino Che porta la lava Serve quindi Soltanto L'industria Di Andesita Questa roba Non lo sapevo Tu puoi mettere Per secondo Per ora No vabbè Bella La puoi mettere Nella farm Dove fai la terra No E non c'è Spazio Non abbiamo Spazio Lì E si può mettere Un altro punto Là sotto Perché in realtà Poi noi la facciamo Che è Più piccolina Perché naturalmente Noi Partiamo da Cioè questa parte Qua Guardate Tutto questo qui A noi non serve Tutta questa parte Rossa A noi non serve Tutta Questa Qua Non serve Tutta sta parte Rossa qui Capito A noi interessa Questo Questo sistema E la lava Che quello ci va Con il trenino E basta Quindi la facciamo Molto compatta Noi abbiamo Sì abbiamo Una mini Del Kerberos Ma è da Da spostare Lì Perché è un punto Brutto Non è Automatica Né niente Serve della lava Che non Cioè voglio fare La farmettina Dedicata Ecco Sì esatto Si può fare anche Da lì C'è la roba Di brick Volendo Sì Va a carbone Il Kerberos Infatti Non c'è più Un input Per la lava Dentro il Kerberos Super carina Come cosa Ma io rispondiamo All'email Reply Io Io bro Appena Provata In live La roba Del contatore Dei blocchi Per Ora È Devastante Bam Io risposto Perfetto E in tutto ciò Mi sa che il monitor È nella buonfina Figo 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 Allora Sì Qua Ragazzi No mi piace Anche proprio Il C'è questa parte Esterna E La prendi Fina Sarebbe da fare Scusatevi Tipo Il Granito Il Granito Si fa in questo modo E la diorite Si fa in questo modo Sarebbe da fare Una mini fabbrichetta Andesite Diorite Granito E via Ah Il granito Cesta Ciao Favetta Come stai Se spredino Per un'altra settimana Favetta Come va Capito E quindi Fare Questo E Avere Praticamente O questo tabellone Un po' più grande Oppure Fare Questo Che sta qua sopra Ok Quindi fate finta Come se Il problema è che Questo qui Oddio È così Allora Si fa uno più grande Tipo Lo si fa Così Lo rotto Perfetto Non si può fare Così Diciamo E questo qui Comunque l'ha visto Da me Questo robetto Fatto così Ok E ce l'abbiamo Così La fabbrica De cemento Va fatta Appositamente Ma dove cazzo Sta Crotone Alexa Dove sta Crotone 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 è un comune Italiano Di 58 288 Abitanti Capoluogo Dell'omonima provincia In Calabria Casa In Calabria Vero A posto Ok Beh 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 Interessante No Si potrebbe Fare questo Layout Capito Cioè Tu hai Questo fatto Così Giusto Capito E hai Qua Andesita Gravel E diorita Caso me È un pochino più spostato E c'è questa roba Fatta così Easy Pulita Credito E quindi Ne abbiamo Una parete Con tre di queste Fatti in questo modo Anzi Facciamo Vedete che si sminchia Boh Vediamo C'è un coglione Capito Fatto Fatto così Volendo possiamo anche avvicinarle di un blocco Ma anche se così non è male E quindi noi abbiamo Te lasciamo bene le porticine che potenzialmente non ci sono In alcuni casi Tipo qua si Qua no Che ne so Oppure ci può stare Poi si vede Capito Ed è fatta così Andesita Gravel Diorita Ed è pulito Secondo me il Avvicinare di un blocco Ci sta Forse È la roba Migliore Aspettate Ecco Visto Pulito E tu ne prendi Una Io farei Una 16 32 O Una 16 E E uno stack Volendo Perché Con il 32 Fai due click Dal 16 Ok Se vuoi più stack Se vuoi più stack Ti fai velocemente Mentre con il 32 Qua se ne vuoi 16 Devi fare 16 click In questa Cioè devi fare Capito Ed è un bordello Vedi Oh Bello 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 Ragazzi Qua Si fa Subito Un attimo La Miniatura Fatta apposta Proprio per Il grande bro Aspetta Questo è un impostore Vabbè ma ci sta anche farlo così Dai La fechiamo un attimo Ok Ragazzi Fatta così Secondo me ci sta Però Tocca allungare Quel muro Grande miniatura Così il grande palma Farà tutto Farà la sua magia Farà il suo Capito Ecco Ecco Così O così Così è perfetta Ma così Ma così tutta la vita Fatta così Testo qua Ce l'abbiamo Aspettate Fatta Ragazzi Domani Sui video Del live Voi sapete Come è stata fatta La miniatura Bam Molto Molto carina Veramente Molto carina Arrivo Arrivo adesso Ti ho risposto Tano Arrivo proprio Tra 30 secondi Non so perché Non è partito TTS Sto studiando Capo Poi se un giorno Avrà bisogno Le posso offrire Una consulenza Vediamo se nel frattempo Sto lavorando Ma poi Mandami delle foto Di quello che fai Favetta Mandami delle foto Sono curioso Di quello che fate Ragazzi Per stasera Alla Createcraft Ci siamo Abbiamo fatto Metà farming Della stazione E abbiamo visto Questa farm Niente male Molto carina Quindi già sapete Prossimamente Cosa ci sarà Così su come Far sparire un corpo Te lo dico Tra poco Ok Ragazzi Per tutti gli amici Di Mardelive Mi raccomando Iscrivetevi ancora Buonavente Per chi si è addormentato E Raga Andiamo su Counter Strik